Ciao ragazzi! Video nuovo per voi! Eccomi tornata con un nuovo video! Oggi un video che mi piace un sacco, scusate la luce, scusate i rumori, ma adesso sto per fare il video che a tutte casalinghe piace da morire. Allora ragazzi, sono appena 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 arrivata, c'è 10 minuti circa, perché comunque ho già mangiato un ghiacciollo, scusate ma leggo questi capelli, tiro su un attimo, questa settimana vado dalla parrucchiera, vado a sistemarli e non vedo l'ora perché sono iper iper. Vediamo, non ho ancora preso l'appuntamento, io dico che vado ma non so ancora. Comunque, allora, sono passata dalla Lidl, love you Lidl, e ho comprato queste cose qua. Allora ho preso questi cestini, nulla di che, sono due. Adesso abbiamo insieme. Allora, allora, questo non l'avete visto eh. Allora ragazzi, sono due cestini semplici bianchi in plastica, eccoli qui, piccoli. Adesso ho tolto la carta e non so la misura, non riesco più a dirvi la misura. Poi la cosa più figa che ho preso dalla Lidl, che era l'ultima. Dan dan, è lei ragazze, è lei, lei è la mia new entry, la nuova pianta che ho preso. Questa qua è una specie di fico, è una fico, lascio qui il nome per voi perché non me la ricordo. Però era l'ultima ragazze e l'ho pagata a 4 euro, in questa bellissima, meravigliosa creatura. Molto bella, guardate le foglie, bellissima, bellissima. Poi ragazzi, sono andata all'acqua e sapone per riprendere i miei prodotti, che sono quelli che sono finiti, devo fare un video dei finiti, dei prodotti finiti, ma ho ripreso quelli che adesso ve li mostro. Ragazzi, questo è l'ammorbidente, l'ho preso lo stesso, uguale a quello che avevo prima, che mi era finito, questo è nuovo, ma io amo il profumo di questi prodotti qua, è del marchio del brand Wexor, non so se si pronuncia così, sono prodotti professionali, ecco qui, e quindi ha una profumazione molto molto intensa. Questo qua ha quattro varianti fragranze, che sono queste qui. Tra tutte, quella che mi piace di più è questa. Allora, Rosy Diana, Violetta e Fiori di Zenzaro, buonissimo, veramente ve l'estra consiglio, perché è un ammorbidente top. Allora, poi ho finito il mio, questo qua è un'essenza multiuso, profumo ambienti, rimane l'odore, pulisci, spolvera, sempre lui. Poi ho preso, allora ho preso queste cose qui, ho preso questo diffusore, con tre profumi, Trevolution, questo qua è dell'Ambipur, che non so dire, e non so, non conosco questi diffusori, vediamo, era in offerta e l'ho preso, perché siccome la sala è grande, io uso i profumi, come si chiamano? Vabbè, comunque, poi ho preso questo profumo qui, per tenere in camera, io ho profumi dappertutto, ragazze, dappertutto, anche sulle scale, lì sotto, dove ci sono tutti i cesti, la patumiera, in bagno, in corridoio, ovunque, nelle camere, io ho profumi dappertutto. Ho preso questo, per giusto, era in offerta anche lui, e vediamo com'è, non credo che sia wow, ma qualcosa farà. Poi ragazzi, mi sono fissata, voglio usare il panno dal pavimento, perché mi sono stufata di tutte queste cose che ho, e niente, allora ho preso questo panno qui, solo che mia suolcia me ne ha dato un altro, vediamo, provo questo, allora, microfibra, per tutti i pavimenti, amplifica l'azione del detergente, lavabile e in lavatrice, quindi già lì, già è qualcosa, pulici senza lasciare allone, o, striscia, vediamo un po' cosa fa questo panno miracoloso, ok, lavabile e in lavatrice, fino a 90 gradi, con normale detersivo, abbiamo già capito, quindi penso che sia top, per ultimo, ma non meno importante, ho preso il, questo l'ha preso Mirko, finalmente l'abbiamo acquistata, la lavastoviglia nuova, perché qualche tempo fa, vi ho detto anche, la mia lavastoviglia, si stava rompendo, anzi era rotta, non sta lavando, ormai poverina, non lava più, lava, ma lascia a metà, la roba sporca, quindi devo fare due lavaggi, e spreco a quei saponi, tempo e mi arrado, e niente, abbiamo cambiata, sta arrivando una super, la lavastoviglia top, e niente, vabbè, lasciamo perdere il discorso, la lavastoviglia, e andiamo a concentrarci, nel, sta cosa qua, allora, questo è il, brillantanti, asciugare rapido, allora, bicchieri brillanti, extra asciugatura, anzi la plastica, antiallone, protezione del calcare, brillantezza, della lavastoviglia, anche questo, sembra un miracoloso, prodotto, il brand, è Pril, chi non lo conosce, alzate la mano, invita, allora, poi, altre cosine, che ho comprato, è stato, queste tre cose, una salvettina, piccola, da tenere, come in borsa, per caso, emergenza, quando esco, quando esco, con Veronica, io di solito, compro quelle grani, infatti, ce le ho, però, questa qui, è da tenere, nella mia borsa, per emergenza, così, poi, ho preso, questa cosa, è un, questo, è uno, spingi, acqua, qua, c'è scritto, ragazzi, non ho mai letto, questo nome, scusate, ma l'italiano, per i brasiliani, è qualcosa, di terrificante, è molto, difficile, e ho preso, questo coso, appunto, perché io voglio lavare, i pavimenti, con, lo, scrascio, del pavimento, vediamo, come andrà, poi, abbiamo preso, questo sacchetto, per, sacchetti normali, per l'umido, e basta, e niente, ragazzi, il video è finito, non dimenticatevi, di iscrivervi al canale, se non siete ancora, iscritti, ragazzi, ragazzi, dovete iscrivervi, al canale, ok, guardatemi, guardatemi, io non sto scherzando, vi chiedo, con molto amore, che, se volete, iscrivetevi al mio canale, se avete un canale, lasciatemi qui, un commento, in questo video, che io verrò da voi, a sbirciare il vostro canale, e se mi piace il vostro canale, sicuramente, mi iscriverò, e sarò, attiva, tutte le volte che postate i video, andrò a vederli, vi guarderò tutto, e metterò like, e commenterò, e non passerò il video avanti, perché tanta gente, cosa fa, passa il video avanti, non sa neanche cosa, cosa hai fatto, cosa hai detto, e mettono un commento, che, beh, vabbè, e niente ragazzi, baci, ciao, ciao, ciao,